e in rapida successione rivediamo gli altri traguardi di questa fase iniziale del giro d'Italia. E Moser in maglia rosa, ma è Saronni che in volata non ha avversari, qui siamo a Rodi Garganico, guardate la volata di Beppe sempre in maglia tricolore, niente da fare per i battuti, Moser secondo, Demier terzo e Moser conserva il rosa per questione di bricciole.